Roma 11 febbraio 2018, intervista al segretario del circolo del golf Acquasanta, signor Angelo Cori. Signor Angelo Cori, da quanti anni è segretario di questo circolo dell'Acquasanta? Sono qui all'Acquasanta dal 2001, dunque nel diciassettesimo anno di attività. E com'è cominciata questo suo percorso? Inizia nel 1992, al taglio negli studi, ho cominciato a lavorare in un circolo al golf Abruzzo, poi ho frequentato le scuole della federazione, della sezione dei segretari. Poi sono stato a Vicenza, sono stato a Frassanelle e poi sono finito nel miglior circo italiano. Il golf è nato qui, in questo posto. In che anno? Il 1903, primo campo di golf sul territorio italiano. La manutenzione da chi viene fatta? Da noi abbiamo una squadra di otto dipendenti con a capo un operario specializzato che provvede alla manutenzione di circa 50 ettari a prato, con quasi 400 alberi, di cui 350 pini, pinus pinea, e con tutte le problematiche di un campo di golf, soprattutto a queste latitudini dove le stati sono molto calde, lunghe e umide. Soffrono? Soffrono, certo. E che cura fate? Normalmente acqua, manutenzione, no? L'acqua però va dosata secondo la necessità. Va dosata secondo la necessità, vanno tenuti e controllati tutti i livelli, diciamo, chimici e fisici tipici di un terreno, e poi operazioni di concimazione. Quanti giocatori di solito ci sono nell'arco di una giornata? Beh, vanno dai 100 ai 200 giocatori al giorno, che quotidianamente soci e anche di non soci. Quindi anche esterni possono venire, quindi... Sì, sì, cioè c'è quello che si chiama green fee, è il pagamento di una tariffa giornaliera, che permette a un socio di fare il giro, un giro 18 bu che richiede circa 5 ore di tempo, e poi viene intermezzato. Un ottimo allenamento che fa bene alla salute. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché coniuga diversi sport, camminare, muovere i bracci. Certo, il fatto del camminare è l'attività più salutare per quanto riguarda il gioco. Sì, e poi ci si rilassa molto, anche il contesto è molto rilassante. E anche eventi di altro genere si fanno qui in questo circolo? Sì, sempre riservati, eventi riservati ai nostri soci, con delle feste, della festa d'estate, la festa... e poi c'è la festa degli aguri, una festa importante che si fa prima di Natale. Più tutte le gare che ogni settimana vengono praticamente organizzate e sponsorizzate da... Prossimamente che ci sarà? La settimana prossima avremo una gara della Nike e la settimana successiva ci sarà un campionato, un trofeo giovanile nazionale riservato ai ragazzi Under 18, molto importante. Poi cominceremo con le gare sponsorizzate e poi il clou, diciamo, quest'anno avremo in programma al periodo di Pasqua alla 65esima edizione della Coppa d'Oro e poi a giugno ci sarà il campionato nazionale, il campionato italiano di femminile che è un evento molto importante. Avremo un campionato Signores internazionale nel mese di ottobre e poi tante gare sponsorizzate. Avremo marchi come la Porsche, Allianz, ci saranno... Adesso non mi vengono... Non si preoccupi, c'è tanto da lavorare. Comunque è veramente un posto meraviglioso quindi utenti che state vedendo il video se avete la passione del golf, amate l'aria pura Beh, qui a Roma c'è questo posto meraviglioso, naturalmente non credo che tutti potrebbero venire a Roma così ma utenti di Roma e non amanti comunque del golf venite qui a... All'Acqua Santa, Circolo Golf Roma Acqua Santa Via Appia Nuova all'altezza 716 in numero 5 Grazie a tutti